Ben ritrovati amici del Centrometto Italiano, nuvole in transito ma anche foschie e banchi di nebbia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 15 novembre. Condizioni di tempo asciutto al mattino ma con addensamenti in transito, nebbie possibili sulla pianura padana e zone interne del centro. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito al centro-sud e maggiori schiarite al nord. In serata è notata nebbie e nubi basse che tornano protagoniste soprattutto sulla pianura padana e zone interne del centro. Temperature minime, massime e stazionarie e un ulteriore lieve aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometto Italiano.